Una serialità di colpi compiuti sempre allo stesso modo. Gli vengono attribuite questa volta dieci rapine, ma forse la lista potrebbe anche essere più lunga con altri colpi simili avvenuti ai danni di imprenditori nell'ultimo anno. Sono dieci le rapine commesse tra gennaio e dicembre del 2022 ai danni di farmacie e sale scommesse di Salerno e provincia accertate, che hanno portato gli agenti della squadra mobile e della polizia di Salerno a dare esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di Giovanni Fenio, indagato per molteplici episodi di rapina aggravata e di porto illegale di arma. L'uomo, con volto travisato e mediante minaccia di un'arma, si sarebbe reso responsabile di dieci rapine commesse tra gennaio e dicembre dello scorso anno ai danni di farmacie e alle scommesse della città e della provincia di Salerno, procurandosi un bottino di circa 20.000 euro. E questa l'ipotesi accusatoria che ha permesso alla Polizia di Stato di ricostruire la mappa delle rapine, un rapinatore solitario ripreso più volte dalle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali, che hanno permesso agli investigatori di risalire alla sua identità, inconfondibile, quasi sempre vestito allo stesso modo, con una camminata con andatura instabile. Giovanni Fenio, 32enne, residente a San Mango, Piemonte, sarebbe responsabile della rapina ai danni delle farmacie Costabile di via Posidonia, Ippocratica di via Picenza, Salernitana di via Vestuti, Picentino di via delle Calabrie, poi le ricevitorie e le sale scommesse, Goldbet di via Galloppo e via Galdi, Intralot di via Madonna di Fatima, Pratwin di Ponte Cagnano e il punto scommesse di Piazza della Libertà a Pastena. Proprio in quest'ultima attività il soggetto Giovanni Fenio ha fatto un doppio colpo, uno a dicembre dello scorso anno ed ancora anche nel mese di marzo scorso, contestualmente alla rapina alla pasticceria Bella Napoli di Madonna di Fatima, episodio che aveva permesso anche ai carabinieri della compagnia di Salerno di individuarlo ed allestarlo. Per Giovanni Fenio il GIP questa volta ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.